Grazie di nuovo in diretta abbiamo recuperato il collegamento qui con Pescara e soprattutto ringraziamo Emanuele Cascione per essere venuto ai nostri microfoni e anche per dare a lui l'occasione di salutare i tifosi del Pescara. Credo ti abbia fatto molto piacere ascoltare gli applausi della tribuna dello Stato Adriatico al tuo ingresso in campo. Ah sì va bene, ormai diciamo che è una seconda casa Pescara perché ho passato gli anni più belli della mia carriera e comunque ci sono stati dei ricordi molto belli, mi ha fatto piacere comunque essere ritornato qui a giocare, è sempre un'emozione forte e anche se oggi è una partita molto tesa, molto sentita dove sono affrontate due squadre che poi alla fine diciamo hanno tenuto il risultato in equilibrio. Con la tua esperienza stai dando una grande mano a Castori e al Cesena per arrivare al traguardo della salvezza? Sì sì stiamo mettendo tanto tutto quello che abbiamo perché ancora ci sono tre partite fondamentali e quindi abbiamo bisogno di tutti, giovani, vecchi, abbiamo bisogno di fare punti soprattutto a partire da domenica perché vogliamo cercare di festeggiare la salvezza prima possibile. L'ultima due battute sul Pescara che hai visto oggi, questa squadra che ha tre punti in più del Cesena e che comunque con l'arrivo di Pilon ha fatto un bel passo avanti in classifica. Sì sì ho visto una squadra in salute, un buon gioco, una squadra propositiva che comunque ha cercato di attaccare per tutta la partita e loro sono leggermente più avanti a noi, penso che comunque la salvezza per loro sia una cosa non matematica però comunque sono a un buon punto e dispiace un po' per il maestro perché comunque sapete che sono molto legato a lui però fa parte del calcio quando i risultati poi non arrivano e il primo a fare le spese è sempre il mister. Grazie, grazie ad Emanuele Cascione.